Il tuo sogno è diventare Jordan Belfort? Ma da dove sei? C'è di Latina Beh, un primo passo potrebbe essere quello di iscriversi al videocorso per consulente finanziario fatto da Copernico Centro Studi 65 ore di video lezioni registrate, fruibili da PC o mobile con tutor sempre a vostra disposizione e simulazioni per affrontare al meglio l'esame da consulente finanziario questo vi permetterà di iscriversi all'albo e poter praticare la professione Così potrete iniziare la vostra avventura come il nuovo Jordan Belfort di Latina Fino a luglio l'esame si terrà a distanza dal proprio PC però i posti disponibili partono da maggio quindi per cogliere questa finestra, molto utile, è importante affrettarsi Ovviamente per tutte le informazioni chiedete direttamente a Copernico vi lascio tutti i link in descrizione Come può un business in declino avere un boom in borsa? Praticamente in poche settimane vedere il valore delle proprie azioni schizzare da poco più di 20 dollari a 350 dollari Beh, cercheremo di spiegarlo in questo video Questa è una storia di rivalsa, una storia fatta di amore e odio perché l'azienda in questione è GameStop un rivenditore di videogiochi che ha più di 5000 punti vendita in tutto il mondo Ebbene, nell'internet ormai GameStop è diventata famosa per la sua pratica di svalutare al massimo i vostri videogiochi usati Insomma, i meme si spregavano Però ultimamente GameStop era diventata una vera e propria contraddizione Insomma, vendi un prodotto digitale fisicamente In realtà, ormai il trend è quello di comprare i videogiochi sulle piattaforme digitali o come ad esempio quella più famosa è Steam Sempre sia lodata Steam E infatti, pian piano, il business di GameStop ha subito questo trend di digitalizzazione delle vendite dei videogiochi E per vedere quanto il digitale abbia influito sul business di GameStop Basta guardare la sua quotazione in borsa Siamo passati da 45 dollari nel 2015 a verso la fine di agosto del 2020 a 4-5 dollari per azione Insomma, un lento ed inesorabile declino Il declino del valore di GameStop è così prevedibile che negli anni le azioni di GameStop sono state oggetto di un particolare comportamento finanziario e cioè lo short selling Lo short selling, se è di per sé un comportamento abbastanza facile da fare può essere una metafora di quanto l'uomo si possa ingegnare per poter fare soldi Praticamente parte da un assurdo e cioè vendere azioni che non si hanno Una volta vendute queste azioni, beh, prima o poi bisognerà ricomprarle in quanto le azioni vendute in realtà mi sono state prestate da un altro agente finanziario Ma allora qual è il vantaggio dello short selling? Che se il valore delle azioni vendute e poi ricomprate scende nel tempo io ci posso fare un profitto Adesso vi spiego meglio Noi siamo un investitore che vuole fare short selling sul titolo Whatsapp Economy che oggi vale 1 euro per azione Vogliamo comprare 100 azioni e quindi le chiediamo in prestito a Lehman Brothers Ottima scelta Così nel momento stesso in cui ci vengono prestate le azioni le vendiamo al mercato al valore di 1 euro facendo un profitto di 100 euro Dopo 5 giorni però purtroppo a causa di un bug di YouTube le azioni di Whatsapp Economy scendono a 50 centesimi per azione In quel caso io decido di comprare le azioni di Whatsapp Economy al costo di 50 euro e ridò questo pacchetto di azioni pari a 100 azioni di Whatsapp Economy a Lehman Brothers Ma che cos'è un pacchetto azionario? In questo modo abbiamo guadagnato ben 50 euro in 5 giorni Ovviamente nel mondo reale ci sarebbero commissioni e tassi di interesse quindi la somma sarebbe lievemente inferiore però l'esempio ci sta per capire come funziona lo short selling Mannaggia Whatsapp Economy Ed ecco spiegato perché le azioni di GameStop sono frequentemente soggette a short selling Ma come abbiamo visto la storia in realtà dura dal 2015 e quindi come mai questa esplosione proprio adesso delle azioni di GameStop? Beh in realtà la storia per vera e propria inizia da fine settembre 2020 E infatti proprio in quel periodo un famoso fondo di investimento dal nome di Melvin Capital Decise di aggiungere ulteriore capitale proprio su questa pratica di short selling sulle azioni di GameStop E' bene precisare prima di andare oltre che lo short selling è una vera e propria scommessa Cosa è successo praticamente? Che in quel periodo Melvin Capital ha scommesso che da lì a poco il valore delle azioni di GameStop sarebbe diminuito Ovviamente se questo non succede Beh Melvin Capital potrebbe rischiare grosso In quanto se le azioni salgono ovviamente il meccanismo è inverso Quindi invece di guadagnare io ci perdo dall'operazione di short selling E più le azioni salgono e io più perdo soldi Perché devo ricomprare le azioni a un prezzo maggiore rispetto a quello a cui le ho vendute Ecco in una situazione normale molto probabilmente Melvin Capital avrebbe scommesso giusto Però in quel periodo un forum molto famoso su Reddit che tratta proprio di temi finanziari Si accorse delle operazioni di Melvin Capital E decise di rendere la vita di questo fondo di investimento un pelo più complicata del solito Il forum in questione su Reddit si chiama WallStreetBets Uno dei più importanti forum all'interno di quella piattaforma E conta centinaia di migliaia di persone Ormai ad oggi è arrivato a più di 2 milioni di persone Ebbene iniziarono ad organizzarsi e acquistare in massa azioni di GameStop La stessa società che per anni internet ha preso in giro Io ci vedo qualcosa di romantico in questo Più queste persone acquistano le azioni di GameStop E più l'offerta di azioni diminuisce e il prezzo sale In un circolo vizioso continuativo E così da fine agosto dove le azioni di GameStop valevano solo 4-5 dollari Arriviamo al 12 gennaio 2021 con un valore di 20 dollari Mentre il 20 gennaio 2021 ad un valore pari a 40 dollari Il trend sembra inarrestabile E paradossalmente oltre alle persone indipendenti che iniziano ad acquistare azioni di GameStop Iniziano ad acquistarle anche gli short seller Perché come abbiamo visto più il prezzo aumenta invece di scendere E più gli short seller perdono soldi Quindi per cercare di minimizzare le perdite devono recuperare la loro posizione Quindi acquistando le azioni il prima possibile E questo non fa altro che aumentare la quotazione in borsa di GameStop E in più ciliegine sulla torta Non ce lo vuoi mettere un Elon Musk che come suo solito scombina i mercati finanziari? Ormai questa abitudine è forte in lui anche con le sue stesse aziende Ebbene pubblica un tweet il 26 gennaio scrivendo GAMESTONS Linkando anche il forum WallStreetBets di Reddit Da lì i degenerati e cioè gli utenti che fanno parte di quel forum schizzano alle stelle E ad oggi sono 4,4 milioni di utenti Mentre le azioni di GameStop lo stesso giorno del tweet di Elon Musk Passano da 150 dollari al giorno successivo appena aprono le borse a 350 dollari In tutta questa storia se c'è un lato divertente c'è anche un lato di riflessione In quanto appunto a causa di queste operazioni numerosi fondi di investimento stanno subendo numerosi danni economici Addirittura alcuni si dice che abbiano rischiato il fallimento E per recuperare da queste posizioni in perdita addirittura hanno tolto capitali da altre aziende sane Per poter recuperare la loro posizione su GameStop E quindi paradossalmente questa operazione su GameStop ha colpito anche altre aziende sane Che non avevano nulla a che fare con GameStop e che magari stavano avendo degli ottimi profitti E quindi tutta questa storia potrebbe avere delle ripercussioni sui mercati finanziari nelle prossime settimane Inoltre c'è anche gente che si sta interrogando se queste operazioni potrebbero essere sempre più frequenti nel futuro O addirittura alcuni che si stanno chiedendo se queste cose debbano essere regolamentate E evitate il più possibile in modo da non generare troppe bolle all'interno dei mercati finanziari Perché sì, anche questa è effettivamente una bolla finanziaria Staremo a vedere in futuro come si evolverà la situazione Ora, in realtà è bene specificare che ad oggi non si sa con certezza se effettivamente questo forum su Reddit Abbia influenzato così direttamente le quotazioni di GameStop Però potrebbe essere un buon indizio Sicuramente in tutta questa storia alcuni complici ci sono E cioè ad esempio le app di trading Che ormai ultimamente hanno facilitato l'accesso ai mercati finanziari a chiunque Con costi di commissioni zero E quindi è molto più facile aggregarsi in gruppi e andare a combattere determinati comportamenti finanziari Di grandi società finanziarie per l'appunto La pandemia in questo senso ha chiuso il cerchio in quanto si è visto come L'iscrizione nelle app di trading è aumentata fortemente in questi mesi di lockdown Da tutta questa storia alcuni hanno anche ricavato una trama come una lotta al capitalismo E cioè i poveri o magari le gente singole che vanno a fare battaglia contro le grandi istituzioni finanziarie Che comandano i mercati finanziari Ebbene anche qui ci vedo un po' di contraddizione in realtà Perché lottare il capitalismo con le stesse armi del capitalismo Che poi ti si ritorcia anche contro Infatti abbiamo visto come effettivamente le persone che stanno agendo tramite i form Stanno effettivamente facendo speculazione E potrebbe andarli anche molto male E in più abbiamo visto come queste operazioni di speculazione Le stesse che hanno fatto i fondi di investimento facendo short selling Potrebbero generare dei danni anche a società perfettamente sane Che non avevano alcun nesso con GameStop e con tutta questa storia Quindi non so prima di fare una lotta una filippica contro il capitalismo da questa storia Ci penserei due volte Detto ciò spero vi sia piaciuto È una storia interessante fa un po' ridere fa un po' riflettere Quindi è perfetta per il format di Whatsapp Economy Se siete interessati per il corso di consulente finanziario Link in descrizione per accedere alle pagine di Copernico Centro Studi Ringrazio anche gli abbonati che mi sostengono giornalmente E se volete partecipare anche voi tutto in descrizione come al solito E niente ci vediamo al prossimo video Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima